Centinaia di telefonate all'Avis e al centro trasfusionale di Ragusa per chiedere informazioni su come donare il midollo e aiutare a salvare la vita alla giovane ragazza modicana affetta da una gravissima forma di leucemia. Un appello disperato rivolto ieri dai genitori della giovane che potrebbe non avere altra speranza che trovare un donatore di midollo osseo. Un appello che non è caduto nel vuoto, da ieri infatti l'appello imperversa su giornali, tv, siti, internet e sui social network raggiungendo tantissime persone che hanno deciso di provare ad aiutare. Basta un solo donatore compatibile per salvare la vita a Sara, così è stata chiamata per difenderne la privacy. Una vera e propria mobilitazione di tutto il territorio ragusano, un grande atto di solidarietà per aiutare chi non si conosce ma che potrebbe essere, come a volte capita, qualcuno vicino a noi. Purtroppo per la giovanissima modicana non esiste ad oggi nessun donatore compatibile negli elenchi nazionali che possa aiutarla. Da questo il motivo per il disperato appello che la famiglia rivolge al proprio territorio. Modicani, ragusani, vittoriesi, comisani e non solo hanno risposto e si sono dati disponibili per la donazione del proprio midollo. Da ieri mattina squillano incessantemente i telefoni dell'Avis e del centro trasfusionale all'ospedale civile di Ragusa, punto di riferimento per le donazioni di midollo osseo. Gli operatori segnano i nominativi di quanti vengono chiamati e poi saranno contattati per un colloquio e poi il prelievo. Da lì, se risultasse una prima compatibilità, si verrebbe poi richiamati per un altro prelievo. Pochi semplici gesti per salvare una vita.